Oroscopo del giorno, martedì 6 aprile 2021 Ariete Amore Per i rapporti amorosi e affettivi questo sarà un martedì tranquillo. In amore tutto proseguirà a gonfie vele nella relazione di coppia con il partner. Anche per chi è single questo sarà un momento abbastanza sereno per i sentimenti. Lavoro Interessanti novità potrebbero arrivare proprio per questa giornata. Occhio alle opportunità. Toro Amore Questa giornata all'inizio aprile sarà serena e tranquilla. Se avete il cuore libero da impegni potrete contare sui prossimi giorni, in particolare sul weekend. Potrebbe essere il momento perfetto per fare una nuova e importante conoscenza. Lavoro L'impegno sarà fondamentale per cercare di raggiungere i vostri obiettivi professionali. Gemelli Amore Con i sentimenti oggi andrà davvero tutto bene e forse non potrebbe andare meglio di così. Il periodo è abbastanza positivo e ottimista per i rapporti di coppia e per quelli che vorrebbero iniziare ad avvicinarsi a qualcuno. Lavoro Non sono previste delle grandi novità per questo martedì. Giornata di routine al lavoro, ma non dovrete sottovalutare nulla. Cancro Amore Riflettere potrebbe essere un passo importante per questa giornata. Che voi abbiate un partner o una persona comunque importante al vostro fianco, è il caso di capire se davvero è colui o colei che vorrete insieme a voi in un domani. Lavoro Occasioni da valutare molto bene per oggi. Potrebbero essere delle novità abbastanza interessanti. Leone Amore Questo martedì potrete vivere il rapporto d'amore al meglio, almeno prima che le cose inizino a complicarsi. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbero nascere dei problemi con il partner che non aiuteranno la relazione. Momento tranquillo per i single. Lavoro Avete un bel po' di idee in mente e potrebbe essere arrivato il momento giusto per lavorarci concretamente. Vergine Amore Oggi potrebbe esserci una complicazione in un rapporto amoroso, in una nuova conoscenza o in famiglia. Attenzione perché qualcosa potrebbe non piacervi e il vostro umore così arriverà a terra. Sarà importante non perdere l'ottimismo. Lavoro Gli ostacoli e le difficoltà non devono rappresentare qualcosa di impossibile da affrontare. Bilancia Amore In questa giornata di inizio mese potreste ritrovarvi a pensare e a riflettere se prendere o meno delle decisioni importanti. Ovviamente tutto spetterà a voi, a seconda del tipo di rapporto e di persona che avete di fianco. Lavoro Novità e occasioni interessanti in arrivo. Occhio a non farvele sfuggire. Scorpione Amore Per oggi tutto andrà bene in amore. Non ci saranno problemi o emozioni troppo forti. Preparatevi però ai prossimi giorni, soprattutto se siete single. Potrebbe arrivare qualcuno a farvi battere il cuore. Una persona inaspettata. Lavoro L'impegno sarà fondamentale, sempre che vogliate raggiungere dei risultati. Sagittario Amore Se siete impegnati in una relazione di coppia, sarà una giornata in cui darete tante attenzioni a chi amate. Grandi emozioni, tanta complicità con il partner per un martedì molto bello. Bene pure i single che vogliono fare nuovi incontri. Lavoro Le idee non mancheranno, ma potrebbe essere un periodo interessante, soprattutto per i progetti. Capricorno Amore L'umore probabilmente non sarà troppo alto in questo martedì di aprile. Per fortuna però, nelle relazioni, non ci saranno grandi problemi. Anzi, tra poco sarà un momento abbastanza fortunato perché ha il cuore libero ed è solo. Lavoro Tanto impegno porta sempre ad un po' di stress. Potrebbero mancare le giuste energie. Acquario Amore Probabilmente non sarà un momento troppo sereno nel rapporto con la propria dolce metà. Potrebbe quindi esserci qualche problemino di coppia e sarà opportuno fare chiarezza con il partner. Poche novità per chi è single. Lavoro In questo periodo potrebbe arrivare una novità o una nuova opportunità professionale. Pesci Amore In questo primo martedì del mese di aprile, per i sentimenti, tutto andrà piuttosto bene. Lo stato d'animo di oggi sarà positivo e questo condizionerà al meglio i rapporti affettivi. Non male pure chi non ha un partner. Lavoro C'è tanto impegno sul posto di lavoro e solo così potrete ottenere dei buoni risultati. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la camera. Per ricevere tutti gli aggiornamenti.